Vi presento con molto piacere il professor Dario Bressanini, un chimico, laureato presso l'Università degli Studi di Milano, insegna presso il Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria di Como. Ha all'attivo diverse, molte pubblicazioni, articoli scientifici, diversi libri. Il suo campo di azione, a parte l'attività di docenza, si occupa molto di divulgazione scientifica. Potrei dire con termine poco tecnico nel combattere le cosiddette bufale o l'udili. Tutto quello che riguarda tutte le notizie più o meno vere, più o meno corrette, che si trovano purtroppo abbondanti nella stampa. Penso dagli OGM, vaccini e così via dicendo. Non rubo altro tempo perché il professore ho visto che ha parecchio materiale da presentare, quindi con piacere che gli lascio la parola. Una ricerca inglese ha evidenziato che la carne rossa fa bene al cervello e ai muscoli. Un'altra ricerca afferma che la carne rossa aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro, del 98%, nonostante migliori le prestazioni sessuali. Una ricerca afferma che il 70% della popolazione mondiale è intollerante al lattosio. Un'altra ricerca dice che 7 celiaci su 10 non sanno di esserlo. L'olio di palma contenuto nella cioccolata aumenta del 56% la possibilità di morte precoce. Un'altra ricerca afferma che... Pure la mela! Afferma che una mela al giorno toglie il medico di torno. Senza buccia, altrimenti cancro. Una ricerca neozelandese dice che l'acqua... si può bere. Anzi, un'altra ricerca dice che un bicchiere d'acqua con mezzo cucchiaino di bicarbonato e succo di limone aiuta a curare il cancro. La stessa ricerca dice che se però il cancro non ce l'hai, te lo fa venire. Se certe ricerche sembrano dare i numeri, vieni a scoprire la ricerca che conta. FrascatiScienza.it Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questo è un bellissimo video che ha preparato qualche anno fa Frascati Scienza. Siete confusi? Tutti noi lo siamo nei confronti di tutte le informazioni che riceviamo riguardo al cibo. Allora, io racconto storie di cibo da 15 anni. Prima solo sulla rivista Le Scienze, poi sul blog, poi pian piano, a mano a mano che arriva un altro social network, mi ci butto perché più mezzi ho per fare divulgazione, più mi piace. Per cui qualcuno di voi magari ha visto i miei video su YouTube. Io nel corso degli anni ho sempre parlato di cose anche gastronomiche. Qualcuno di voi vedo che qui ha il libro sulla scienza della carne o la pizza. Oppure questioni di etichette alimentari, di bufale, quelle inventate dalle aziende o dalla pubblicità. L'ultima volta che sono venuto qui a Foligno avevo parlato, credo avessi presentato il libro Le bugie nel carrello e raccontavo le varie favole che si raccontano sul camut, sulle patate al selenio e così via. Nel corso degli anni, appunto di questi 15 anni, io ho osservato proprio un aumento dell'ansia, dei dubbi nei consumatori, per cui per una volta ho deciso di parlare un po' di non tanto delle aziende, sì ci saranno anche qualche bufala messa in giro ad arte, ma in realtà di noi, di come noi in questo momento storico ci approcciamo al cibo e siamo tutti molto molto confusi. Questo era un'immagine, una vignetta del 1900 e si immaginavano i... Si sente? Devo tenere più vicino. Così, all'epoca si immaginavano che i cuochi del 2000, quindi nel secolo successivo, avrebbero cucinato pillole, avremmo mangiato pillole. C'è stato un momento storico, un bel po' di anni fa, che si immaginava che nel futuro avremmo mangiato pillole. I primi astronauti mangiavano cose super nutrienti, concentrate, pillole, tubetti e cose del genere. Poi si è visto che neanche gli astronauti apprezzavano quel tipo di cibo, e invece quando gli si dà da mangiare del gelato o delle cose simili a quelle che noi mangiamo qui, non so, avete visto forse qualche anno fa Samantha Cristoforetti che si mangiava le cose normali. Quindi l'idea di mangiare pillole, di sostituire il cibo con le pillole non è più così. Anche se in realtà, se voi andate in un supermercato, le pillole le trovate. Quindi in realtà le stiamo assumendo. Questo è tutto il reparto degli integratori alimentari che c'è nel mio supermercato. E' una cosa enorme, le troviamo di fianco ad altri settori alimentari. C'è tutto un... quindi non è poi così vero che noi non mangiamo pillole. E paradossalmente, infatti oggi non parlerò degli integratori alimentari, ma paradossalmente abbiamo una situazione in cui abbiamo cibi che dicono orgogliosamente di non contenere questo, di non contenere quello, quindi di togliere delle cose, e poi contemporaneamente invece ci prendiamo, magari le stesse cose che inadvertitamente abbiamo tolto, ce le prendiamo come integratori, che meriterebbe una conferenza a parte, ma lo dico esplicitamente, qui nella maggior parte dei casi non servono a nulla. Ecco, gli integratori, se uno segue una dieta normale, bilanciata, equilibrata, non sono assolutamente necessari. Nei rari casi in cui sono necessari, perché c'è qualche squilibrio, diciamo, di tipo medico, medico, e quindi bisogna essere seguiti da un medico e che prescriverà qualcosa ad hoc, quindi non è che si va al supermercato e si compra la cerola perché contiene la vitamina C naturale. Insomma, va bene. Ecco, questo è... quindi in realtà oggi mi occupo non delle pillole, ma di questo. Questo è un biscotto di una marca di cui acquisto altri tipi di biscotti. Questo l'ho preso esplicitamente perché mi aveva incuriosito, e il nome è Senza Niente. C naturale, questo è il nome del biscotto, e dice biscotti senza frumento, senza latte, senza uova, senza zuccheri aggiunti, con edulcorante. Quindi è un biscotto senza niente, non ci stava nell'etichetta, ma è anche senza burro. Ed è l'emblema della situazione che c'è adesso di molte persone, della grande maggioranza delle persone, nei confronti del cibo. Cioè noi siamo ansiosi, abbiamo paura, abbiamo paura di quello che mangiamo, e quindi se siamo convinti che il frumento faccia male, lo togliamo. Se siamo convinti che il latte faccia male, le uova, eccetera, li togliamo tutte. In realtà se uno va a vedere dietro l'etichetta, ci sono altre cose che non contiene, ovviamente c'è niente olio di palma, niente ogiemi, niente conservanti, niente coloranti, niente aromi. E poi, ecco, in questa ricetta impieghiamo riso e grano saraceno macinati con piccolo mulino a pietre rotanti. Questo dovrebbe essere un plus. Se uno guarda gli ingredienti, siccome i biscotti si sono sempre fatti con farina, burro, uova, zucchero, quindi se io tolgo la farina, il burro, l'uovo e lo zucchero, è difficile riuscire a immaginare. Cioè, quindi c'è anche un lavoro, diciamo, di tipo tecnologico per riuscire a produrre qualche cosa che assomiglia a un biscotto. Però se uno, se vi avessi fatto vedere prima l'etichetta e vi avessi detto, guarda, io ho un prodotto che contiene farina di riso, maltitolo, fecola di patate, succo di ananas, olio di cocco, amido di riso e grano saraceno e poi di fosfato di sodico, e io avessi chiesto che cos'è, che cosa rappresenta, che cos'è, probabilmente non vi sarebbe venuto in mente di dire che a me è un biscotto dalla colazione, quasi un frollino. E quindi, ovviamente, se io non ci metto il burro, che è un grasso che serve nella preparazione della frolla, devo metterci un altro grasso, e devo metterci un altro grasso prevalentemente solido, quindi saturo, un grasso saturo. Quindi, siccome abbiamo dichiarato orgogliosamente che non vogliamo l'olio di palma, che è un sostituto del burro, non dell'olio d'oliva, ci devo mettere l'olio di cocco, che è addirittura più saturo, sia del burro che dell'olio di palma. Se non ci voglio mettere il frumento, devo metterci comunque una fonte di amidi, quindi ci metterò la fecola di patate e altre cose. Il succo d'ananas credo sia messo per addolcire un po', perché non ci metto lo zucchero, però i biscotti che non sono dolci non sono biscotti, insomma. Quindi, vabbè, uno potrebbe fare appunto, spiegare il perché e il per come, ma l'ho preso solamente come simbolo della situazione che adesso troviamo in un qualsiasi supermercato. C'è l'esplosione dei bollini. E solo 15 anni fa, quando io ho iniziato a raccontare le cose, non c'erano, non ce n'erano così tanti, ce n'era qualcuno. Invece adesso ce l'ha preso solamente alcuni, perché non ci stavano tutti, ma vedete che c'è di tutto. In alcuni casi c'è un motivo per cui alcune persone, lo vedremo, devono evitare, per esempio, il glutine, se uno è celieco, lo deve assolutamente evitare, ma ce ne sono alcuni che francamente non vogliono dire nulla, cioè 100% chemical free, non ci sono molecole evidentemente. Poi, senza conservanti, per esempio, allora, di quali conservanti stiamo parlando? È ovvio che in alcuni casi i conservanti non servono, cioè non mi aspetto di trovare conservanti, non so, nel sale o nello zucchero, perché loro stessi sono dei conservanti, però si trovano dei prodotti con scritto cose di questo genere. Quindi senza zucchero, GM free, senza lattosio, questo è un indice del grado di ansia che noi ormai abbiamo quando compriamo. E il filmato di prima metteva proprio in luce questa cosa, perché non è che poi ci siamo inventati, noi riceviamo informazioni contrastanti, a volte anche da fonti, diciamo, che noi riteniamo affidabili e non sappiamo più come comportarci. Infatti, cioè questa è una frase storica di un filosofo, di Ludwig Feuerbach, che diceva che siamo quello che mangiamo, e in realtà il titolo della conferenza l'ho preso, l'ho rubato da un antropologo, Marino Niola, che ha scritto un libro, che parla appunto di viaggio nelle tribù alimentari, e dice proprio, ma in realtà adesso siamo quello che non mangiamo, perché adesso ci identifichiamo anche in quello che noi non mangiamo. Per cui ci sono, specialmente adesso che i social network, dei gruppi Facebook, Whatsapp e così via, in cui si crea proprio un'identità delle persone che decidono di eliminare qualche cosa. Quindi è un aspetto antropologico e sociologico molto interessante. A volte sembra proprio di essere sulla scena del crimine, perché uno si deve quasi vergognare a mangiare qualche cosa. Ieri sera ho postato, ero a un ristorante qui a Foligno, ho postato sul mio profilo Instagram la foto dell'antipasto con i vari salumi, insomma, di cui l'Umbria è fiera. Subito dopo è arrivata una persona che si è autodichiarata vegana e mi ha praticamente insultato, diceva, ma tu ci fai le menate su mangiare questo e questo, e poi guarda, mangi roba cancerogena. È come se mi dovessi vergognare di mangiare, appunto, ogni tanto dei salumi, che sono buoni. L'aspetto di piacere nel cibo è fondamentale. Io non aderisco a... Ci sono alcuni che lo fanno, che hanno una visione così ascetica e punitiva del cibo. Io no. So benissimo che ci sono magari dei rischi e che comunque l'alimentazione globale è quella che conta, non quello che mangi una sera. Per cui so benissimo che... non dovrei mangiare troppi salumi. So benissimo anche che, oltre alle sostanze che in grandi quantità ci possono far male, ci sono anche delle sostanze che ci possono far bene. Quindi controbatto mangiando anche tantissime verdure, ortaggi, sacruliche, coti, frutta, verdure e così via. Però ecco, questo è proprio... A volte sembra quasi di trovarci davanti a... in una scena del crimine. E prima si accennava alle varie bufale. Ci sono per esempio questa serie di bufale sui veleni bianchi. Prima erano tre, poi sono diventati quattro. Adesso ultimamente sono diventati cinque. Girano tutta una serie di storie sui cosiddetti veleni bianchi. Cinque veleni bianchi che sono, secondo queste storie, il latte, lo zucchero, però bianco, il sale, il riso e la farina, anche lei bianca. È curioso, tra l'altro, questa cosa del bianco perché nel Medioevo non era così. Ieri sera, andando appunto, uscendo dal ristorante, dove poi appunto su Instagram mi hanno mezzo insultato, sono andato alla conferenza del professor Bastiston e ho visto che qui a Foligno c'è un ristorante che si chiama Biancomangiare. Il Biancomangiare è un classico piatto inventato nel Medioevo ed era composto tutto di cibi bianchi e ancora adesso è così. All'epoca però c'era un ingrediente che adesso è scompasso perché c'era il petto di pollo e poi c'erano le mandorle per state, il riso, lo zucchero, lo zucchero bianco c'era già nel Medioevo. Perché era un piatto medievale bianco? Perché nel Medioevo si pensava che i colori avessero un'importanza fondamentale nel ristabilire l'equilibrio delle persone. Si pensava che quello che noi troviamo in natura fosse pericoloso, non era adatto da consumare per l'uomo. Quindi bisognava lavorarlo e mescolare ingredienti diversi. In particolare i cibi bianchi si pensava fossero adatti ai malati, alle persone che avevano perso l'equilibrio e quindi bisognava dare cibi bianchi per ristabilire l'equilibrio perduto. Non a caso ancora adesso si dice di mangiare in bianco. Il latte per Antonomasia è bianco, assolutamente, poi parliamo del lattoso. Però questa idea qua se uno è ammalato mangia in bianco deriva da lì e non ha molta valenza scientifica. Ma questo per spiegarvi come invece adesso se una volta il bianco serviva per curare i malati c'era il brodo di pollo e poi a un certo punto è stato tolto il petto di pollo e il brodo di pollo è diventato un dolce al cucchiaio che ancora adesso possiamo trovare. Ma questo per spiegare come cambia l'atteggiamento nei confronti di... Alcuni di questi veleni li incontriamo. Prima di proseguire però volevo fare una piccola notazione. In tutti i discorsi che noi ascoltiamo, leggiamo sia di quelli che esaltano i cibi specialmente alcuni specifici e di solito sono quelli esotici chissà perché arrivano sempre da paesi strani. Ci sono i semi di chia, le bacche di hacai e qualcosa cioè non ci sono mai le rape o il cardogobbo chissà perché. Sì. Assolutamente. Sia quelli che invece in negativo dicono a dire non puoi appunto mangiare lo zucchero oppure non puoi mangiare la farina oppure non puoi mangiare la farina bianca oppure non puoi mangiare la farina però deve essere macinata con piccoli mulini a pietra oppure non deve venire dal campo. Non si fa mai un discorso di quantità che è quello che normalmente nella scienza abbiamo imparato a fare cioè non esistono le sostanze buone o cattive. Invece se noi leggete dalle riviste che trovo appunto al parrucchiere fino anche agli articoli dei giornali che uno dice vabbè dovrebbero aver fatto un controllo di quello che scrivono no ecco. Però appunto c'è questa idea molto semplicistica di dividere tutto quello tutti i cibi in buoni o cattivi o ancora peggio che prevengono il cancro o che lo fanno venire se fate caso o addirittura le sostanze che sono contenute sostanze che o fanno venire il cancro o lo prevengono. Di solito nessuna delle due cose. Perché? Perché quello che conta spesso è la quasi sempre è la dose. Il fatto però e qui c'è diciamo una piccola notazione se vogliamo psicologica il fatto di poter dire che una sostanza un alimento è cattivo di per sé o buono di per sé e non invece ragionare sulle dosi che noi decidiamo di assumere sposta la responsabilità e la colpa se vogliamo del nostro stato di malessere che noi mediamente mangiamo male mangiamo troppo soprattutto lo sposta da noi a un agente esterno. Cioè se capisco che il problema non è lo zucchero che sia bianco o colorato non cambia ma è la quantità che mangio è chiaro che mi devo far carico delle mie scelte alimentari e dire ne mangio troppo e noi di sicuro ne mangiamo troppi di zucchero se invece mi si dice ah no ma guarda il problema è lo zucchero punto e quindi cattivi loro che lo mettono dentro sposto le mie responsabilità da me a qualcun altro e questa è una cosa una cosa diciamo costante quindi questa cosa qua purtroppo non salta non è mai messa bene in evidenza dicevo che ci sono tantissime informazioni che arrivano e molto spesso specialmente quello che riguarda la dieta sono le donne che sono le destinatarie non sempre ma sono le donne per esempio se uno va questo è un piccolo campione di riviste per esempio queste sono due riviste in cui dicevano parlavano di intolleranze via le intolleranze torni subito in linea qui dunque vediamo via le intolleranze alimentari ecco i sali minerali che le vincono e riattivano il metabolismo vabbè poi ci sono tutta una serie di altre di altre cose cioè l'intolleranza cioè negli ultimi anni si è diffusa l'idea che ci sono dei cibi a cui noi siamo intolleranti e che per esempio fanno ingrassare questa è una cosa che diciamo dal punto di vista scientifico non ha nessun senso nessun senso non si non si non si ingrassa per una intolleranza adesso appunto per ognuna di queste cose si potrebbe parlare mezz'ora ma non esiste è proprio un controsenso un'intolleranza è un qualche che è da distinguere dalle allergie ma un'intolleranza è un qualche problema che io ho a metabolizzare una determinata sostanza in un cibo per cui non l'assorbo per cui è difficile ingrassare con qualcosa che io non assorbo però questi messaggi fanno anche lì ti danno l'idea il capo respiratorio tu sei sovrappeso sei ingrassato pesi 10-15-20 kg di più di quello che dovresti beh la colpa non è tua che hai mangiato troppo la colpa sono delle intolleranze e vi dico subito che intolleranze alimentari scientificamente dimostrate e validate dalla scienza ce ne sono che si contano sulle dita di una mano magari in una dita di una mano monca però appunto uno cosa ne sa vede le riviste ci sono dei libri ecco qua guardate perché ovviamente nel momento in cui si identifica un nemico c'è subito un libro che esce subito la dieta dell'intolleranza scopri i sette cibi che ti fanno ingrassare sono i cibi che fanno ingrassare non quanto ne mangio capite che è proprio sbagliato ma anche qui la pancia si sgonfece subito perché hai metabolismo lento fermentazione e intolleranze ci sono la cosa che a me sinceramente non piace cioè che uno per esempio va in farmacia e trova dei test pubblicizzati in farmacia o addirittura ci sono dei medici che li prescrivono ecco allora ce ne sono vari test del capello test citotossico biorisonanza questi test promettono di scoprire se uno è intollerante a decine o centinaia di cibi peccato che nessuno di questi sia scientificamente validato non esiste nessuna prova che il test qualche cosa misurano ecco per esempio il test delle immunoglobuline G che va per la maggiore ultimamente non non ci sono prove che in realtà dimostri una qualche tipo di intolleranza e varie non perché lo dico io io racconto sempre cose pubblicate sulle riviste scientifiche e varie accademie mediche scientifiche in giro per il mondo questa cosa qua l'hanno dichiarata più e più volte però voi trovate questi test e allora per esempio se avete voglia un giorno e non avete venuto a fare c'è una trasmissione della tv svizzera di giornalismo di inchiesta che si chiama Patti Chiari trovate i filmati online streaming ecco che un giorno hanno fatto questo esperimento quindi hanno fatto hanno mandato dei campioni o di sangue o di capelli o insomma a seconda di quello che richiedeva a varie laboratori diversi per scoprire se erano intolleranti alla qualunque c'è un elenco teorico di intolleranze lunghissimo che ripeto nessuno ha mai trovato nella letteratura scientifica l'intolleranza alla carne di maiale non esiste almeno nessuno l'ha mai dimostrata eppure uno manda questo campione e poi gli ritorna indietro un elenco di cibi a cui è intollerante la sogliola la platessa i peperoni vabbè la grappa la cipolla e così via l'esperimento è stato chiaramente non è un esperimento scientifico è un'inchiesta giornalistica hanno mandato lo stesso campione a vari laboratori diversi per vedere se c'era una riproducibilità e hanno visto che ogni laboratorio con lo stesso tipo di test con lo stesso campione dava risultati diversi per uno era intollerante al carciofo e per l'altro alla platessa ancora peggio se uno mette insieme tutti i risultati di tutti i laboratori non c'era un singolo alimento compreso in tutti i vari risultati questo dal punto di vista scientifico non ci stupisce se uno segue la tiratura scientifica perché ripeto questi test poi ce ne sono altri il vega test alcuni che sono ancora più esoterici ti fanno girare l'ampollina con dentro il cibo non c'è neanche il contatto e poi misurano risposte muscolari cose di questo genere non hanno valenza scientifica però che ne sa la mia mamma che quando va in farmacia o va da da qualcuno che si ritiene lo sappia di guidare noi consumatori nelle nostre scelte dice faccio il test del DNA e scopro se sono intollerante alla platessa quindi non è tutta colpa nostra se siamo così ricettivi quindi parliamo però appunto di una un problema che invece ha una base medica reale e quindi al supermercato trovate tantissimi ormai prodotti qui c'è una sezione intera del supermercato dove vado a fare la spesa di senza glutine poi vabbè in fondo c'è anche la parte la parte biologica e trovate tantissime tantissime tantissimi prodotti ed è curioso anche qui come si è cambiato questa è la pasta a buitoni che nell'ottocento veniva pubblicizzata e veniva addizionata di glutine era la pastina glutinata a buitoni contiene 15 grammi di acido glutammico perché si estrae poi il glutine ha una grande quantità di acido glutammico che poi è l'acido a cui si poi si deriva il glutammato quindi ma anche quella è un'altra questione non abbiamo tempo di parlare però l'idea è che qui c'era la pastina glutinata qui si aggiungeva il glutine e adesso invece nessuno sarebbe un suicida un suicida un'azienda che pubblicizzasse il contenuto di glutine e diceva addirittura che le ho aggiunto e infatti c'è la pasta senza glutine che è una benedizione per chi è celiaco ma dobbiamo chiederci se chi sono i destinatari di questi di questi prodotti e qui perché perché ce ne sono troppi e i celiaci sono pochi come vediamo e la moda del senza glutine dicevo 15 anni fa non c'era praticamente ed è in dubbio che è stata amplificata enormemente per esempio da alcuni divi del cinema questo per esempio è Russell Crowe ma soprattutto da lei da Gwyneth Paltrow che ha cominciato a dire che il glutine faceva male è una seguitissima sui social chiaramente ha un sito web che si chiama Gup dove dà tutta una serie di consigli pseudo salutistici e per lo più strampalati tanto è vero che la mia coautrice di un libro che ho scritto che è Contronatura che ha scritto adesso Beatrice Motino che ha scritto un libro sulle bufale e la scienza della cosmetica siccome Gwyneth Paltrow usa tantissime cose molto al di fuori della scienza in cosmetica ha dato questo suo teorema cioè ha dato una qualsiasi moda strampalata la probabilità che Gwyneth Paltrow la segua o l'abbia inventata o l'abbia inventata lei è pari al 100% lei è una di quelle che ha iniziato la moda senza glutine ma tanto per darvi un esempio nel suo sito vende delle uova di giada vaginali non volete andare a vedere veramente quello che succede o pubblicizza l'olio di cocco o per farsi lo shampoo o come l'uberificante sessuale si spera non contemporaneamente ma per dire che c'è comunque stata una pressione perché sono queste le persone che poi le persone seguono non seguono i convegni scientifici fatti a porte chiuse di cui poi c'è un trafiletto sui giornali sono queste persone qui non solo però perché ci sono anche dei medici purtroppo che hanno alimentato questa 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 cosa del senza glutine anche se non sia celiaco e questo per esempio è un un cardiologo americano un cardiologo vero non uno farlocco e che ha pubblicato un libro in Italia è stato pubblicato come la dieta zero grano William Davis ha venduto più di un milione di copie numero uno best seller nel New York Times in cui si accusa facendo quello che noi scienziati chiamiamo cherry picking cioè andando a selezionare ad arte le pubblicazioni scientifiche che confermano la mia idea preconcetta e non citando assolutamente articoli scientifici che invece la smentiscono e quindi uno lo legge vede una serie di citazioni e qui accusa il glutine delle peggiori nefandezze dall'autismo tumori di tutti i tipi leucemie insomma un sacco di cose per cui uno lo legge e dice cavoli è un medico ci sono le pubblicazioni scientifiche citate ci credo quindi non è solo colpa di qui nel paltro allora chi è celiaco chi è celiaco non deve assolutamente mangiare il glutine questa è una cosa assolutamente determinante i celiaci in Italia sono l'1% l'1% e chiaramente loro chi è celiaco non so se qualcuno c'è qualche celiaco qui o qualcuno che ha parenti di celiaco chiaramente il fatto che ci sia stata questa boom di prodotti senza glutine ha facilitato molto la vita dei celiaci che è veramente dura e prima non c'erano tutte queste disponibilità di prodotti senza glutine però l'1% è un numero piccolo per sostenere questo tipo di prodotti tale davvero intera di un supermercato allora sulla celachia non ho tempo di entrare su quello che si sa e quello soprattutto che non si sa ne abbiamo parlato nel libro Contronatura è di sicuro aumentata sta aumentando negli anni prima si pensava che questi aumenti fossero solo dovuti a migliori diciamo migliori diagnosi in realtà si è visto che effettivamente andando a vedere dei campioni di sangue lasciati nelle basi americane dai soldati dagli anni 40 in avanti si è visto che effettivamente c'è un aumento della celiachia ma nessuno sa perché ci sono tantissime ipotesi una delle ipotesi è vabbè mangiamo più glutine in realtà questo pare non essere vero questo è un altro studio pubblicato fa vedere come all'inizio del secolo scorso mangiassimo molti più queste sono in libre per persona molti più glutine di adesso questi sono dati americani ma anche negli altri paesi non cambia molto all'inizio del novecento in Italia il pane era l'alimento principale poi c'è stato un crollo una diminuzione e poi qui c'è stato un aumento quando i grassi sono stati additati come responsabili di tutta una serie di malattie cardiovascolari e questo invece è la discesa degli ultimi anni che deriva proprio da questa demonizzazione del glutine non entro nel dettaglio in realtà non si sa bene che cosa perché stia aumentando ci sono varie ipotesi non è il consumo di glutine nel libro ne raccontiamo alcune questa per esempio sono una serie di studi molto interessanti fatti prendendo la popolazione della Carelia cioè una popolazione che ha un profilo genetico abbastanza uniforme che però è divisa in due una parte è nella Russia e nell'altra parte nella Finlandia queste hanno analizzato questa popolazione che ha un profilo genetico molto simile perché non si sono poi molto mescolati hanno un consumo di farina pane glutine quasi identico però nella Carelia finlandese c'è sei volte lo sviluppo di celiachia nei bambini rispetto alla Carelia russa e lì ci sono vari motivi cioè varie ipotesi una di queste è per esempio l'ipotesi genica il fatto che i bambini con minori condizioni igieniche e sanitarie vengano più spesso che nella Finlandia più ricca esposti a alcuni virus che sono normalmente innocui come un reovirus che però in qualche modo inganna potrebbe ingannare il sistema immunitario se un bambino ha una infezione di reovirus che normalmente anche a volte asintomatica passa senza nessun problema contemporaneamente l'assunzione di glutine magari durante lo svezzamento insomma ci sono tantissime ipotesi tuttora noi non sappiamo bene cosa gli italiani che fermano di non consumare prodotti con il glutine sono il 10% ecco perché si spiega appunto il mercato del senza glutine perché perché nel insomma nei laboratori negli studi medici di gastroenterologia di tutto il paese il mondo occidentale insomma ma anche in Italia negli ultimi nel ultimo decennio hanno cominciato ad arrivare sempre più persone che dicevano sostengono di avere dei sintomi simili a quelli di un celiaco quando assume del glutine quindi problemi diarrea problemi intestinali dolori crampi e così via però insomma uno fa l'analisi sia l'analisi genetica sia l'analisi la biopsia dei vili intestinali così non risulta non si risulta celiaco allora a un certo punto nella comunità scientifica si è cominciati a dire ma forse c'è qualche altra cosa escludendo anche le allergie perché uno può essere allergico ad alcune proteine del frumento quindi le allergie come dicevo sono un'altra cosa ce ne sono tantissime sono molto personali io per esempio sono allergico alle noci se ne mangio troppe mi si gonfiano gli occhi per esempio altre cose che mangio mi fanno gonfiare la lingua ognuno di voi probabilmente ha qualche cosa a cui è allergico quindi a un certo punto si è dibattuto nella letteratura scientifica se davvero potesse esistere una qualche cosa che potremmo chiamare che comunemente viene chiamata intolleranza anche se dal punto di vista scientifico il tema di intolleranza è come dicevo piuttosto restrittivo e fino a un certo punto si è arrivati circa al 2011 dove la comunità scientifica ha detto vabbè allora coniamo diamo un nome a questa patologia anche se non abbiamo un test perché non capiamo che cosa cosa succede dal punto di vista biologico però le persone dicono di star male e quindi insomma gli diamo un nome e l'hanno chiamata la sigla NCGS che vuol dire sensibilità al glutine non celiaca quindi uno ha gli sintomi molto simili dichiara sintomi molto simili a quelli che ha un celiaco ma non è celiaco quindi è una chiamata sensibilità e questa è la definizione del 2011 in realtà è sempre stata una patologia molto sfuggente perché ripeto nessuno è mai riuscito a capire il meccanismo biologico e ovviamente subito appena c'è una nuova cosa c'è un test di laboratorio che lo rivela come dicevo non so esattamente cosa riveli questo test ma dicevo non è noto neppure quale sia il meccanismo ma le cose sono ancora più divertenti perché già subito due anni dopo questa definizione cominciano a apparire i primi studi fatti in doppio cieco che è diciamo uno dei test dei metodi più utilizzati per andare a indagare certi problemi di tipo medico ma non solo in doppio cieco vuol dire che si prendono delle persone che dichiarano di avere un tipo di problema quindi per esempio la sensibilità al glutine e gli si dà delle pillole o qualche cosa solo che le persone non sanno se stanno assumendo del glutine oppure stanno assumendo non so dell'amido di riso che non lo contiene e si chiede poi di valutare la propria risposta i propri sintomi un doppio cieco vuol dire che neppure i ricercatori sanno cosa stanno dando ci sono codifiche c'è un'altra persona o un computer che codifica le pillole questo per evitare che i medici o chi fa la semministrazione possa in qualche modo influenzare le persone e quello che è saltato fuori in questo primo studio del 2013 fatto tra l'altro dallo stesso gruppo che in precedenza aveva portato alcuni esperimenti che suggerivano che potesse esistere davvero questa sensibilità e alla fine dice che questo esperimento fatto in doppio cieco dice che non ha mostrato evidenze di una risposta al glutine di pazienti che dicono di avere questa sensibilità al glutine quindi abbiamo trovato un forte effetto nocebo cioè un effetto psicologico in cui se io sono convinto che qualcosa mi fa male e credo di assumerlo starò male davvero quindi le persone non se li inventano di stare male attenzione nessuno vuole prendere in giro le persone che stanno male si tratta di capire perché e infatti dice l'NCGS potrebbe non essere un'identità reale o discreta e dice il glutine potrebbe non essere quello che fa scattare la risposta però come noi sappiamo dovremmo ricordarci sempre un singolo articolo nella comunità scientifica non vale niente anche se pubblicato su la rivista più prestigiosa perché è il modo in cui uno scienziato pubblica i suoi lavori e li espone alla critica diciamo costruttiva della comunità scientifica cioè non è che siccome una roba è pubblicata allora basta ci dobbiamo credere ci mancherebbe altro ci sono ci si possono trovare altri studi qualcun altro potrà fare degli altri studi in effetti nel 2015 un altro studio analogo è stato pubblicato fatto tra l'altro in Italia a Pavia dal gruppo del professor Corazza e a tra l'altro siamo stati infortunati perché nel libro Contronatura dove facciamo quattro capitoli dedicati tutti al grano alla genetica il grano creso tutte le varie bufale che si raccontano sui grani grani antichi moderni è uscito pochissimi mesi prima della pubblicazione abbiamo visto il preprint non era ancora stato pubblicato e quindi siamo riusciti a citarlo quello che trova questo gruppo quindi un altro lavoro indipendente trova sostanzialmente la stessa cosa cioè delle persone che sostengono di avere problemi con il glutine ma ricordatevi che nessuno ricordatevi che nessuno di noi mangia glutine puro quindi è un po' arbitrario dire io ho mangiato la pizza sono andato a casa ho dei problemi è la colpa del glutine perché non c'è solo non mangiamo glutine puro però i risultati sono analoghi solamente il 5% di coloro che sostenevano di essere sensibili al glutine sono risultati effettivamente intolleranti o sensibili al glutine altre il 95% a volte reagiva con dei sintomi dolorosi o riportati per esempio quando assumeva la pastiglia con dentro l'amido di riso oppure non aveva nessun tipo di reazione mangiando la pastiglia con il glutine glutine puro separato non è facile da preparare perché appunto nel frumento ci sono tantissime sostanze che potrebbero dare dei problemi che sono proteine zuccheri di vario tipo quindi forse questa sensibilità al glutine esiste forse è ancora la cosa di battuta perché effettivamente c'è una piccolissima parte delle persone che dichiarano che a quanto pare reagiscono così magari non è il 5% magari sarà il 10% il 15% questi studi sono sempre fatti su un campione abbastanza limitato però di sicuro conferma il risultato che vi dicevo precedentemente e poi ne sono usciti altri questo è uscito nel 2017 e anche qui con un altro design sperimentale ma alla fine si giunge alla stessa conclusione che la maggioranza dei pazienti che hanno una sospetta sensibilità al glutine non sono in grado di identificare quando gli si dà il glutine e loro non sanno di prendere quindi il glutine non è la causa dei sintomi quindi insomma in forse questo boom delle intolleranze finte e questo boom delle intolleranze che potrebbero essere vere ma che in realtà non lo sono dovremmo dovremmo interrogarci sul perché siamo così crediamo così facilmente quindi per esempio alcuni lo fanno per moda alcuni lo fanno perché pensano di dimagrire infatti se uno comincia a togliere tutto il glutine tutto quello che contiene glutine dalla dieta dimagrisce ma perché toglie un sacco di cose perché di fatto sta assumendo meno calorie sta facendo quello che non riuscirebbe mai a fare andando da un dietista e dicendo voglio dimagrire e il dietista gli da una dieta dicendo devi mangiare di meno è questa è una cosa che ricontreremo noi non riusciamo psicologicamente a seguire una dieta che ci dica semplicemente mangia di meno perché ne mangi troppo però se ci dicono guarda che lì è un pericolo questa cosa ti fa male la togli la togli completamente ma siccome noi non mangiamo glutine da solo mangiamo cioè mangio la pasta col pomodoro oltre al glutine c'è anche il pomodoro che è benefico contiene il licopene contiene tante altre cose quindi questo tipo di diagnosi fai da te sono anche pericolosi infatti i gastroenterologi li sconsigliano anche perché c'è anche una gran parte di celiaci che non sanno di esserlo e quindi non si riesce a fare dei test se uno segue autonomamente una dieta senza glutine e poi va dal gastroenterologo e gli dice il gastroenterologo dice ritorna ad assumere il glutine perché devo vedere i danni sui villi intestinali e quello dice no, non posso farlo quindi insomma c'è tutto un problema alcuni lo fanno per moda c'è un fortissimo effetto nocebo appunto come dicevo che è il contrario dell'effetto placebo che è quello che per esempio funziona in omeopatia uno mangia la pilonina di zucchero ma è convinto che contenga lo scillococcinum che è una cosa che non esiste non è inventata però oppure ancora peggio pensa che contenga delle erbe in realtà appunto la fitoterapia le ele sono un'altra cosa l'emopatia non c'entra niente e uno ha in alcuni casi non se ha una seticemia ovviamente un otite ha un piccolo miglioramento e l'effetto nocebo come dicevo è il contrario uno pensa che qualcosa gli faccia male e se ne convince per cui alla fine è difficile fare anche questi tipi di test come dicevo poi nessuno mangia glutine questo è glutine puro artigianalmente prodotto l'ho fatto io in casa per fare un piccolo impasto di farina con un po' di sale e poi cominciate a lavorarlo sotto un filo d'acqua l'amido pian piano se ne va via e ottenete questa cosa che sembra un cervello ma nessuno mangia il glutine da solo quindi chissà quelle persone che dicono dichiarano di avere un problema se è davvero il glutine in realtà pare che non lo sia e quei gruppi hanno identificato alcune sostanze presenti nel frumento ma non solo anche nelle cipolle o in altre cose che in realtà sono dei carboidrati che adesso vengono chiamati FODMAPS ovviamente appena uscito un libro la dieta dei FODMAPS in questo caso però potrebbe avere anche un senso però non ho letto il libro per cui non mi pronuncio però sono diciamo zucche monosaccaridi disaccaridi o polioli quelli che mettono nelle cicche senza zucchero il sorbitolo il manitol eccetera eccetera che possono dare dei problemi analoghi a quelli per esempio analoghi a quelli del sindrome del colon irritabile e così via quindi potrebbero esserci dei casi in cui qualcuno deve evitare queste cose non il glutine quindi se uno decide di eliminare il glutine toglie alcuni alimenti che potrebbe mangiare col glutine che potrebbe mangiare senza alcun problema e contemporaneamente ogni tanto però ci casca lo sesso e ha dello sesso dei problemi perché queste sostanze per esempio sono presenti come dicevano nelle cipolle nelle prugne e in altre cose che non contengono glutine ovviamente allora brevissimamente sul quindi questo è un esempio di appunto come i media sia attraverso fonti purtroppo che uno considera autorevoli sia attraverso appunto i social e le persone famose no si amplifica un qualche cosa che all'origine ha un qualcosa di medico ma è diventata poi una moda stessa cosa per il latte allora brevissimamente l'altro veleno bianco il latte contiene il lattosio che è lo zucchero prevalente presente nel latte il lattosio tutti i mammiferi i cuccioli quando nascono prendono latte dalla mamma e attraverso un enzima che si chiama lattasi spezzano il lattosio in galattosio e glucosio il galattosio è quello tipo delle galatine avete presente il sapore tutti i mammiferi producono latte con lattosio ogni latte è diverso non esiste un latte uguale all'altro l'essere umano produce il contenuto di lattosio è piuttosto alto perché deve dare tanta energia al cucciolo il 7% quello di vacca è il 4,9% quello di capra che a volte viene indicato come simile a quello umano ma non è vero 4,7% quello di balena è 1,3% molto basso il latte di balena come il latte di foca sono ricchissimi di grassi hanno più del 50% di grassi perché chiaramente nelle condizioni dove vivono hanno più bisogno di grassi per proteggersi dal freddo comunque quello che succede è che passato lo svezzamento nella maggior parte dei casi facciamo più o meno il 70% dei casi al mondo cessa la produzione di questo enzima per cui molti adulti non sono più in grado di spezzare il lattosio e il lattosio poi può andare a questo punto non metabolizzato nell'intestino nel colon e i batteri li presenti pasteggiano e se lo mangiano producendo dei gas per cui in più se ce n'è troppo richiama anche acqua per osmosi per cui poi ci sono problemi di diarrea problemi intestinali e così via la cosa diciamo interessante è che le analisi genetiche hanno mostrato che diciamo la condizione diciamo dell'uomo primitivo questo ho messo ozzi quindi non so non è abbastanza primitivo diciamo 10.000 anni fa nessun essere umano a meno da quello che si è visto sia dagli studi diciamo di genetica delle popolazioni sia dai reperti era in grado di produrre da adulto l'enzima lattasi quindi ozzi non poteva consumare latte e come dicevo la maggior parte delle popolazioni qui è una mappa hanno fatto una mappatura genetica di chi riesce da adulto a produrre a continuare si parla di persistenza della lattasi perché diciamo a un certo punto si è prodotta ma abbastanza recentemente in alcuni punti del mondo in tempi diversi una mutazione genetica che ha diciamo bloccato lo spegnimento del produce la lattasi quindi il gene continua a rimanere attivo e è capitato che in alcune zone dove già si allevavano gli animali quindi questa mutazione per esempio qua in Europa si pensa sia avvenuta nei Balcani e in una popolazione che già allevava circa 5.000 avanti Cristo quindi non tanto tempo fa in una popolazione che già allevava animali per estrarre il latte l'allevamento è precedente perché il latte non veniva consumato fresco ma veniva utilizzato per fare bevande fermentate come yogurt oppure formaggi burro cose di questo genere che hanno di per sé un basso contenuto di lattoso ma lì in quelle zone ne sono state trovate altre per esempio qui nella penisola arabica qui nell'Africa occidentale in questa zona dove una mutazione genetica che è apparsa mutazioni che sono casuali appaiono ovunque ma e quindi se appare questa mutazione che permette di poter bere il latte anche da adulto e quindi di dare un vantaggio specialmente se sei in posti dove l'acqua è avvelenata e non hai grandi fonti di energia e di risorse e quindi il latte è assolutamente l'alimento più nutriente che esiste per definizione beh se invece quindi se si sviluppa questa mutazione in una popolazione di cacciatori come succede e si sono trovate appunto in cacciatori in Africa non dà nessun tipo di vantaggio tanto loro non hanno contatti con il latte se invece si sviluppa in una popolazione che già produce latticini allora c'è un vantaggio evolutivo in più per chi sviluppa questa mutazione genetica e che quindi avvantaggia chi ce l'ha e quindi pian piano si è sparsa in giro per il mondo il blu vuol dire non abbiamo la produzione dell'enzima il rosso abbiamo il 90% di produzione quindi paesi nordici dove guarda caso bere latte lo bevono addirittura a pranzo e cena non so come faccio ma è addirittura considerato un esempio di buona salute ecco da noi non c'è da noi a mano che si scende c'è una riduzione in Sardegna credo che la produzione della lattasi sia attorno al 30% cioè il 70% ma sono solo fatti da piccoli campioni quindi queste percentuali sono sempre un po' così ma comunque in Italia diciamo che mediamente il 50% di noi non produce la lattasi quindi non ha l'enzima e quindi uno va a cercare i prodotti senza lattosio però però quello che si vede è che per esempio non è non basta non saper produrre l'enzima quindi si parla di non persistenza della lattasi per avere problemi perché quando si fa un test per vedere se si è davvero intollerante al lattosio si fa anche col breath test si respira perché questi batteri che si mangiano il lattosio che noi non metabolizziamo producono poi idrogeno e questo si può misurare si dà una dose tra i 25 a volte 50 grammi di lattosio per causare questo tipo di reazione in realtà anche se uno non produce l'enzima si vede che 9 persone su 10 che non hanno l'enzima senza lattasi riescono a mangiare a bere senza problemi 10 grammi di lattosio senza problemi ma anche qui c'è poi un problema perché molte persone in più pensano di essere intolleranti al lattosio anche qui c'è un effetto nocebo perché altri articoli fatti invece sulla percepita auto percepita di intolleranza all'attosio mostrano che quando invece gli si dà quando si fa il bread test il test che dicevo prima gli si fa ingerire del glucosio dicendo che è lattosio quindi il glucosio non dà nessun tipo di problema beh il 30% reagisce lo stesso e dice di stare male e sta male davvero cioè dice di avere dolori intestinali erofagia problemi di cosiddetta quindi anche qui anche qui c'è un effetto un effetto placebo quindi dobbiamo tenerne conto ma perché? perché noi siamo costantemente bombardati da informazioni molto spesso negative sui cibi che riceviamo e una volta che abbiamo una delle cose che fanno notare i ricercatori negli articoli dicendo è difficile fare esperimenti anche in doppio cieco che è lo standard diciamo considerato il doppio cieco randomizzato eccetera eccetera perché se le persone hanno già un effetto noncebo hanno già un'aspettativa negativa io come faccio a togliergliela e questo è vero per tantissimi cibi cioè io non posso fare un esperimento in doppio cieco sensato sui broccoli se uno pensa che i broccoli facciano male non c'è nessuna pubblicazione che mi risulti che dica che i broccoli facciano male per cui lo scelgo apposta ma uno si mangi i broccoli cioè qual è il placebo del broccolo no? cioè è difficile fare esperimenti di questo tipo però anche qui il marketing ovviamente ci si butta e quindi questo è un parmigiano o forse un grano non lo so però dice con omega 3 vabbè senza lattosio senza glutine e senza zuccheri mi sfugge perché dovrebbe esserci il glutine in un prodotto di questo genere però è anche il vino senza glutine vabbè però per esempio il punto è che un parmigiano un qualsiasi formaggio stagionato non ce l'ha più il lattosio praticamente cioè se voi andate questa è un etichetta di un normale parmigiano in cui non c'è scritto senza lattosio andate a vedere carboidrati di cui zuccheri zero perché durante la stagionata prima durante la produzione del formaggio in cui i batteri lattici prendono il lattosio e lo trasformano in acido lattico e poi durante la trasformazione la stagionatura non rimane praticamente niente e ricordandovi che comunque 10 grammi di lattosio la maggior parte anche degli intolleranti riesce a consumarlo vabbè qui si sta avvicinando il tempo della chiusura quindi evito di raccontare la storia dello zucchero perché l'ho già raccontata varie volte di sicuro molti prodotti sono senza zucchero dichiarati noi di sicuro mangiamo troppi zuccheri per cui è sicuramente una cosa buona ridurre il consumo di zuccheri il problema è che sono tutti uguali i zuccheri l'ho già raccontato in varie varie volte non è che lo zucchero più scuro fa più bene quindi posso mangiarlo impunemente cioè la mattina se io prendo una brioche vegana al miele integrale di farro con cristalli di zucchero di canna è comunque una bomba calorica cioè non è che fa bene però anche qui il mercato risponde e quindi a un certo punto hanno inventato hanno pubblicizzato le marmellate senza zucchero è stata punita l'azienda non solo questa per pubblicità per etichetta ingannevole non so come si dica perché non esiste per definizione una confettura deve avere zucchero però in cui si usava diciamo l'idea che zucchero al singolare vuol dire saccarosio per cui io non aggiungo il saccarosio e aggiungo qualche cos'altro e allora potevo scriverlo chiaramente è un inganno per il consumatore e allora hanno cominciato a scrivere senza zuccheri aggiunti con l'asterisco andate sempre a leggere gli asterischi e uno va a vedere l'asterisco e dice vabbè questa è una confettuna marmellata di mandarino ingredienti primo ingrediente succo di mela cioè allora per non dover aggiungere il saccarosio come si è sempre fatto per le confetture e ci aggiungo succo di mela quindi prendo la mela butto via la buccia che contiene anche sostanze interessanti polifenoli le fibre eccetera eccetera la spremo butto via tutte le fibre prendo il succo lo concentro quindi alla fine ho un succo di glucosio e fruttosio e lo uso dentro poi bandarini anche qui non si può più utilizzare questa dicitura perché anche questa è ingannevole e adesso scrivono solo zuccheri della frutta senza peccinaggio solo zuccheri della frutta io tuttora ho un dubbio di che cosa voglio significhi più del 100% di frutta questo non riesco tuttora non riesco a capirlo ma anche qui uno va a vedere ci sono le fragole meno male che meno male che sono il primo al primo al primo ingrediente ma poi c'è anche qui succo d'uva concentrato cioè che quindi anche qui è glucosa e fruttose insomma quindi arriva dalla frutta va bene però allora cinque minuti finali dicendo che va bene le bufale va bene qui avevo riportato una bufala cioè la farina bianca come colla i social network chiaramente ci sguazzano in queste cose però e qui devo ho anche un medico di fianco quindi mi assumo la mia responsabilità di dire che a volte certe cose vengono diciamo istigate o diffuse anche da medici e purtroppo diciamo la comunità l'ordine non so chi dovrebbe occuparsi a livello mondiale non se ne occupa troppo non se ne occupa per cui questo è un caso appunto sono sicuro che molti di voi la conoscono la dieta dei gruppi sanguigni sì ok c'è questa dieta che dice che alcuni gruppi tra l'altro facendo delle interpretando male la letteratura per cui l'idea è siccome non so il gruppo zero è quello che è apparso prima secondo questa teoria e allora dovremmo mangiare quello che mangiava quell'uomo quindi carne così poi pian piano sono apparsi gli altri anche lì poi in realtà non è così ma è quindi pian piano quindi il gruppo A potrebbe mangiare dei cereali cose di questo genere e quindi ancora una volta si dà una prescrizione basata su qualche cosa che ti dice quei cibi tu non li devi mangiare io sono gruppo zero io non dovrei mangiare cereali perché perché e questo è appunto il libro che in Italia è più o meno la Bibbia questo è il dottor dottor Mozzi ci sono tantissimi incontri pubblici che sono sempre pieni pieni zeppi e vi faccio notare per esempio questo l'ho preso ieri è secondo in bestseller di medicina su Amazon nel 2018 ma è un libro che è uscito nel 2014 e costantemente dal 2014 è sempre o nella top ten totale di Amazon o comunque ai primi posti sempre di medicina ho controllato vende circa dalle statistiche 600 copie a settimana esclusa Amazon la GDO quindi fate conto adesso un migliaio di copie a settimana dal 2014 ha venduto un sacco di libri questo è uno screenshot che io ho preso nel 2016 quando è uscito il mio libro sulla scienza della carne io ero sesto nella classifica totale di Amazon un giorno poi in realtà subito dopo sono andato via quello era secondo nella classifica generale di Amazon sono un sacco di una diffusione enorme è un medico cioè mia madre mia madre ci crede ci crede perché dice oh è un medico Dario tu dici pensi che sono tutti scemi ma lui saprà mi dice così lui saprà è un medico ha fatto esperienza non a caso appunto io sono gruppo zero e dovrei mangiare carne quindi non è un caso forse che io abbia scritto un libro sulla scienza della carne come dice Jacopo è un caso io non credo però appunto lui è diffuso nelle tv private non so se si vede da qua dalla mia parte è Telecolor 56 e ha un audience notevole la cosa curiosa che non è stato lui inventare questa dieta dei gruppi sanguigni è stato inventato da questo signore che è Peter D'Adamo che ha scritto anche qui un libro pubblicato nel 96 che ha venduto più di 7 milioni di copie 7 milioni di copie e tra l'altro recentemente è stato ripubblicato questo libro in Italia non era mai stato pubblicato e questa è la vera dietro dei gruppi sanguigni guardate proprio il colore uguale la cosa uguale quindi ha creato un po' di subbuglio tra i fan di Mozzi ho visto però allora che non ha mai avuto nessuna base scientifica l'idea che noi dobbiamo mangiare rispetto al gruppo sanguigno non c'è nessun tipo di riscontro e infatti la comunità scientifica non se ne è mai occupata però a un certo punto qualcuno nel 2013 quindi anni dopo dopo aver visto che ha venduto questo libro 7 milioni di copie ha detto andiamo a vedere facciamo una rassegna sistematica di quello che è stato pubblicato e quindi nel 2013 questi insomma su una prestigiosa rivista di nutrizione clinica dicono non abbiamo trovato studi che mostrano un effetto della dieta in base al gruppo sanguigno quindi non esiste nel 2013 nessun lavoro che suggerisce dei benefici della salute ripeto al gruppo sanguigno quindi è una dieta che non ha non aveva una base scientifica all'epoca e qui ci dobbiamo fare ci dobbiamo imparare a invertire l'ordine della prova cioè molto spesso anche a me ma tantissimi altri veniamo contattati dicendo ma è vera questa cosa perché ci spieghi se è vera questa cosa che dice questo e quest'altro è vera la dieta di gruppo sanguigni si parla di bufale ecco le bufale sono troppe le cose che uno dice anche se è un medico sono troppe non c'è abbastanza tempo per andare a indagar perché a dire una fesseria una cosa non dimostrata scientificamente ci si mette 30 secondi andare a dimostrare che quella cosa lì è falsa è difficile a volte non si può neanche perché nessuno cioè se uno dice gli unicorni esistono dimostrami che non è vero vai sulla letteratura scientifica non troverai neanche un articolo che dice che non esistono gli unicorni ma certo chi è che si mette a pubblicare un articolo scientifico dimostrando che non esistono gli unicorni dovevi imparare a invertire la prova cioè se tu fai un'affermazione devi dimostrarla tu tu dici che la tua dieta fa bene tu dici che quell'alimento fa male tu dici che questo e quest'altro hanno queste proprietà dimostralo e se cominciassimo a fare così ci sarebbe meno bisogno di smentire le bufale comunque nel 2014 qualcuno l'ha fatto questo studio e diceva vabbè vediamo e quindi ha fatto questo studio non ve lo racconto non ho tempo adesso finisco e dice i nostri studi dimostrano non supportano l'ipotesi della dieta dei gruppi sanguigni e l'altro ieri ne è uscito un altro quindi ho fatto tempo di inserirlo dentro anche qui fanno un altro studio come al solito uno studio sempre non è inclusivo quindi ce ne sono almeno due e anche qui la teoria dietro questa dieta non è valida allora salto tutta la parte sul crudismo magari salterà fuori qualcosa nelle domande ma non ho avuto tempo gli enzimi va bene alla fine però molti mi dicono anche mia mamma mia mamma si mangia si beve il limone la mattina ma com'è funziona com'è funziona che è la stessa obiezione nei confronti di chi dice che l'omeopatia funziona com'è funzionato e quindi però lì dobbiamo andare per forza a ricoperare la questione del nocebo e del placebo di prima la cosa curiosa io non ho dubbi che alcune persone abbiano avuto dei miglioramenti per esempio togliendo il latte o mangiando secondo questa dieta e la cosa interessante che ho trovato su questo articolo l'ultimo articolo che analizzava le diete del gruppo sanguigno dice abbiamo trovato dei miglioramenti a seconda di alcune diete quindi hanno preso delle persone e gli hanno fatto seguire la dieta secondo il gruppo A secondo il gruppo 0 e così via ma non necessariamente se erano del gruppo giusto quindi hanno fatto seguire anche una dieta adatta al gruppo 0 per chi è al gruppo A e così via per fare tutte le varie statistiche altrimenti non vale niente un articolo del genere e la cosa interessante è che dicono abbiamo trovato dei profili di rischio cardiometabolico migliorati visto dei mark e così via e quindi questi miglioramenti possono spiegare l'evidenza aneddotica che queste che queste diete possano migliorare indipendente però non ci sono associazioni col gruppo sanguigno quindi questo ci dice che molto spesso le persone mangiano male aderiscono al guru di turno che gli toglie alcune cose in alcuni casi come per esempio nel latte ci possono essere dei rischi per la salute per esempio perché togliendo completamente i latticini il calcio che lo assumiamo in buona parte dei latticini diminuisce quindi è difficile cioè ci sono dei casi clinici che dimostrano che se uno si fa la dieta senza lattosio pur non essendo intollerante fai da te può rischiare di andare sotto i livelli in altri casi come in questo cioè io l'ho vista la dieta mia mamma ce l'ha al libro e ti dice insomma togli lo zucchero mangia più cereali se puoi mangia legumi cioè ti dà comunque una dieta che senza sapere che è dei gruppi sanguigni non è irragionevole a volte poi mi verrebbe appunto da chiedersi ma perché io non dovrei mangiare i carciofi e invece gli asparagi sì però appunto uno non se li fa queste domande uno ha una risposta se la segue e spesso trova un miglioramento ma il miglioramento non è dovuto alla dieta ma probabilmente del fatto che mangiava da schifo prima quindi insomma io vi lascio con questa immagine c'è un museo online carinissimo che si chiama Gluten Free Museum che ti fa vedere come sarebbe stata la storia dell'arte senza il glutine per cui qui se non c'era il glutine qui non c'era e quindi io vi lascio insomma grazie dell'attenzione abbiamo credo qualche tempo per le domande grazie veramente oltre che interessante stata immaginavo molto brillante anche l'intervento immagino che ci siano delle domande ne avrei qualcuna anch'io però chiaramente lascio un spazio al pubblico certo sì prego alzate la mano nessuna coraggio nessuna fantasia non so se deve girare un microfono ah sì la ripeto io allora sì arriva 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 sono mamma di un ragazzo ormai celiaco nel 2002 abbiamo fatto abbiamo scoperto questa cosa e io ho notato in quegli anni uno si trova così spaisato e notavo c'era la pubblicità del riso scotti dotto scotti no che faceva la pubblicità del riso ma non degli spaghetti che c'erano che facevano comodo no allora mi chiedevo come mai allora era la pubblicità del senza glutine non c'era perché si si nominava una malattia certo di cui anche ci si vergognava allora di avere no perciò ho notato invece questo cambiamento adesso il senza glutine addirittura nei cosmetici che non ha senso che non ha senso come diceva lei l'assenza di zucchero nel parmigiano esattamente si la ringrazio è verissimo il senza glutine come dicevo è diventata una moda ma proprio perché hanno cominciato appunto da Gwyneth Paltrow e poi adesso le varie modelle dicendo io tolgo il glutine è diventato come si dice uno stile di vita è solo che a volte può aver senso ovviamente per chi è celiaco come suo figlio è obbligatorio ecco però chi non è celiaco non c'è un motivo reale per eliminare il glutine e soprattutto non c'è un motivo reale per chi non è celiaco cioè il riso va benissimo ma se uno mangia per esempio pasta o i prodotti che normalmente ce l'avrebbero il glutine quindi merendine varie pizze impasti pasta così normalmente questi prodotti per riuscire a stare in piedi come vi ho fatto vedere prima nel biscotto devono aggiungere tante altre cose perché il glutine è quello che dà l'impasto quindi nutrizionalmente spesso sono più scarsi sono più ricchi di grassi più ricchi di zuccheri per cui se uno è celiaco non può fare a meno perché giustamente ha voglia anche di mangiarsi la sua pizza o i biscotti o la pasta ma se uno non ha nessun problema con il glutine rischia di avere appunto una dieta più cattiva dal punto di vista nutrizionale però è chiaro che uno va a vedere le modelle le attrici io seguo un po' di persone su instagram ci sono sempre tutte queste super modelle che vanno in palestra tutti i giorni e poi pubblicizzano questo e quest'altro ma in realtà vanno in palestra tutti i giorni questa è una roba importante e volevo anche aggiungere la contraddizione per esempio dei vegani o dei vegetariani che mangiano il seitan perché gli imita la bistecca e il seitan è un concentrato di glutine è glutine puro è glutine puro è glutine puro però non a caso non lo chiamiamo glutine puro lo chiamiamo seitan o muscolo di grano se ci sono altre domande sì siamo in giro salve mi chiamo Liliana e sono intollerante al lattosio la mia domanda è questa quando voglio mangiare una buona mozzarella una ricotta prendo normalmente l'enzima diciamo delle compresse che mi permettono mangiare invece mi rifiuto categoricamente di mangiare ad esempio mozzarella senza lattosio la domanda è è veramente senza lattosio cioè com'è il meccanismo attraverso cui si producono questi alimenti sì allora no è un meccanismo molto semplice nel senso che si fa agire esattamente quello che fa lei quando lei prende la pasticca e c'è dentro della lattasi che è un enzima che in parte viene distrutto quando arriva nel nostro sistema però è protetto per cui riesce ad arrivare un po' nell'intestino e lì riesce a fare quello che non riesce a fare il suo intestino perché non lo produce più nel latte senza lattosio o a ridotto contenuto di lattosio semplicemente la lattasi viene fatta agire prima per cui se lei guarda l'etichetta del latte ad alta dirigibilità o comunque latte senza lattosio quello che vedrà è che contiene glucosio e galattosio perché è stato fatto agire prima diciamo l'enzima e si è scisso il lattosio in glucosio e galattosio questo è uno dei motivi per cui per esempio al palato risulta più dolce perché il lattosio è un po' meno dolce ma glucosio e galattosio di cui si scinde è più dolce per cui risulta più dolce quindi se uno parte da latte in cui non è stato trattato con chissà quali sostanze chimiche semplicemente è stato fatto aggiungere è stato aggiunto della lattasi parte da latte che già non ce l'ha e quindi si possono ottenere dei prodotti alcuni latticini però per esempio ne hanno comunque una quantità molto bassa io non so qual è il suo grado di reattività perché ogni persona reagisce in modo diverso anche in base ai batteri intestinali per esempio la ricotta quella vera quindi quella che dovrebbe essere fatta dal siero in realtà per esempio di lattosio ne dovrebbe contenere già molto meno adesso purtroppo siccome il consumatore vuole una ricotta cremosa una volta la ricotta era faccio il formaggio mi rimane il siero quindi sono solo proteine non c'è più niente faccio bollire con l'aceto e precipitano tutte le siero proteine ed è molto asciutta adesso però il consumatore la vuole cremosa e quindi gli si aggiunge la panna o il latte per cui è chiaro che lì a questo punto il lattosio c'è però in realtà ci sono delle tabelle che dimostrano che alcuni latticini di sicuro per esempio tutti i formaggi stagionati ce ne hanno molto meno o anche altri insomma il gorgonzola se non mi ricordo male e così via per cui non necessariamente è chiaro che fare una prova così e poi magari rischiare di stare male qualche ora dopo capisco che uno abbia delle remore però appunto non necessariamente deve eliminare tutti i latticini perché alcuni hanno naturalmente come i formaggi stagionati un ridottissimo o zero contenuto di lattosio altre domande? prego sono convinta che mangiamo malissimo comunque mangiamo una serie di schifezze che non parli davanti a ah parlo solo così d'accordo ecco quindi sono convinta che mangiamo tanta robaccia purtroppo più che altro mangiamo anche tanto questo è uno dei problemi infatti io le dicevo che sostanzialmente la sintesi di quello che lei ci ha detto è di mangiare di meno ma allora se vogliamo la sintesi è quella di allora questa era una cosa specifica un po' sulle bufale la sintesi dovrebbe essere quello di non badare a meno di patologie ben specifiche e dimostrate di quelle di non badare al singolo alimento o addirittura alla singola sostanza contenuta nell'alimento quello che conta quello che è molto più importante è quello che noi mangiamo e quanto mangiamo nell'arco di un mese un anno per cui non ho fatto tempo di far vedere tutte le cose sul crudismo cioè noi dobbiamo mangiare di sicuro cioè le linee guida internazionali ma anche nazionali sono quelle cioè non è che ci si inventa niente ti dicono di mangiare poca carne rossa pochi prodotti animali i pesci sono esclusi perché comunque invece ci si è dimostrato un miglioramento per cui è anche difficile fare delle cose troppo generali ma comunque mangiare tanta frutta verdura fresca e sia cruda che cotta perché alcuni nutrienti non ho potuto farla vedere si assumono solamente se li cuociamo la carota cruda non assumiamo praticamente il betacarotene se la carota la tritiamo la cuociamo e magari gli mettiamo anche un po' d'olio perché i carotene si sciolgono nel grasso ne assumiamo più del 30% ed è un il betacarotene è un precursore della vitamina A e così via cioè è molto più importante cosa mangiamo durante tutta l'arco di un mè di un anno che non andare a fissarci con il singolo il singolo ieri mi sono mangiato un piatto di salumi benissimo è perché è anche un piacere mangiare poi è chiaro che se ne mangio tutti i giorni insomma sia perché mangio tanti salumi sia perché se mangio quello non mangio altre cose per cui non va bene per cui io insomma poi mi sono preso una zuppa di legumi invece che integrali che era buonissima ed era assolutamente raccomandata per cui quello che conta non è il singolo alimento è quello che noi mangiamo globalmente e di sicuro mangiamo troppo purtroppo cioè l'essere sovrappeso è anche per esempio un fattore di rischio per alcun tumore è un fattore di rischio è un fattore di rischio io sono sovrappeso io voglio dimagrire sto cercando di dimagrire è difficile capisco è difficile dimagrire perché siamo in un ambiente in cui noi consumiamo ormai io lavoro al computer tutto il giorno per cui cioè una volta si mangiava di più ma aveva un consumo energetico quando si parla di dieta bilanciata va bilanciata nel corso appunto dei mesi dell'anno non nel corso del singolo pasto del singolo piatto ecco perché ecco perché i miracoli cioè adesso no c'è la prova costume dimagrisci 15 chili in un mese ma no ma sono delle balle e ti raccontano proprio delle balle l'ananas si scioglie i grassi ma non esiste cioè è proprio una fesseria totale e però cioè uno se li vede e ci crede purtroppo appunto e guardate e fateci anche caso un'altra cosa troppo spesso si pone l'accento nelle varie diete alle percentuali di macronutrienti no? ah questa dieta ha tot per cento di carboidrati tot per cento di grassi tot di proteine no io aumento le proteine di microni grassi mentre raramente si dice vabbè ma quante ne prendi globalmente perché noi in realtà noi mangiamo troppe proteine troppi grassi troppi carboidrati e non abbiamo nella media normalmente neanche delle carenze di vitamine o minerali noi ne mangiamo troppi cioè non è che ci fanno male normalmente però vitamina C se ne mangiamo troppa questa la pisciamo fuori sostanzialmente però anche qui il marketing ti diciamo prendi questo alimento perché contiene questa roba mangia ti lo zucchero di canna integrale perché contiene ferro no grazie perché comunque dovrei mangiarmene quantità enormi per riuscire a prendere quel pochino di ferro che è rimasto nel residuo di melassa il ferro me lo prendo in un'altra parte sì forse è una domanda un po' retorica ma forse mi sbaglio io volevo così una battuta da lei su che ha fatto riferimento ai test per diagnosticare no la media di test per diagnosticare le intolleranze eccetera c'è uno che va molto di moda insomma è molto utilizzato le Hav elettroagopuntura di Vol volevo sicuramente no cioè allora lei lo conosce no allora il punto è ce ne sono tantissime l'idea come dicevo prima uno deve partire da questo assunto intolleranze dimostrate scientificamente c'è quella al lattosio quella che impropriamente possiamo chiamare al glutine anche se in realtà appunto c'è la celiachia che è un'altra che è meglio chiamare e poi c'è questa cosa misteriosa che però colpisce una infima parte della popolazione poi c'è il malassorbimento di fruttosio e praticamente basta cioè non esiste l'intolleranza alla carne maiale l'intolleranza alla sogliola l'intolleranza alla rapa sono inventate non c'è quindi qualsiasi test che dichiari con qualsiasi meccanismo di trovare queste intolleranze quando non esistono non sono state scientificamente dimostrate è un test che indipendentemente da quello che trova fa una cioè io non dubito che non è che in questi test dentro c'è la scatola vuota anche i test che misurano le immunoglobuline G qualcosa misurano il problema è il significato che tu dai come diceva questa inchiesta uno lo manda a vari laboratori e fa l'intersezione e trova l'insieme vuoto cioè non c'è niente ma perché quindi questo test qui compreso questo sì ma sono tutti cerchi di trovare l'unicorno se gli unicorni non esistono è difficile trovare possiamo farlo possiamo perché mi sembra che qui sia il mercato che gestisce l'ansia e la paura e il problema è il marketing della paura è certo la signora professoressa sì volevo soltanto chiedere come mai crescendo non siamo più in grado di sintetizzare l'enzima lattasi allora come dicevo prima questa è la allora una volta siccome i primi esperimenti i primi studi sono stati fatti in Gran Bretagna nei paesi del nord e lì la grande maggioranza delle persone hanno la diciamo la persistenza della lattasi si pensava che il non avere la lattasi da adulti fosse un problema una malattia e quindi parlavano di appunto di condizione cioè la condizione naturale era quella di ci abbiamo tutti la lattasi poi quando le analisi sono state fatte in tutto il resto del mondo si è scoperto che normalmente tutti i mammiferi compreso l'uomo dallo svezzamento in avanti non riescono più a produrlo il perché è abbastanza semplice dal punto di vista dell'evoluzione il produrre un enzima che poi da adulto non ti serve perché poi nessuno va normalmente a bere latte perché stiamo parlando di geni che precedono l'allevamento quindi non c'era più latte disponibile se tu riservi una parte delle tue energie per produrre degli enzimi delle proteine che non ti servono dal punto di vista evolutivo sei svantaggiato stai togliendo energia risorse che il tuo corpo potrebbe produrre e usare in un'altra maniera quindi quella è la soluzione naturale quando c'è stata quindi non c'è non c'è un problema è così così come tante altre cose quando si passa dai lattanti dagli infanti agli adulti c'è uno sviluppo normale alcune cose spariscono e altre si meno esigenza per cui l'evoluzione l'ha eliminata l'evoluzione l'ha reintrodotta ha introdotto questa persistenza della tasi solamente in quei casi in cui si è dimostrata utile per chi allevava per cui immaginate un villaggio africano dove bere acqua può voler dire prendersi la diarrea e morire magari di disenteria e quindi era difficile trovare delle cose nutrienti se uno era adulto improvvisamente avere la possibilità di bere latte d'adulto che quindi è molto più sano dell'acqua ma l'acqua era pericolosa anche nel medioevo e da noi tanto è vero che era la birra la bevanda più sana da bere perché con l'alcol almeno aveva ucciso i microorganismi e quindi improvvisamente in Africa ma anche nei Balcani e in altri posti qualcuno ha continuato a poter bere latte anche da adulto e allora aveva un grande vantaggio evolutivo e quindi probabilmente ha avuto più figli e pian piano questi figli hanno avuto lo stesso vantaggio potevano nutrirsi meglio e il loro vicino di capanna invece no e quindi pian piano a un certo punto si è diffusa è una delle mutazioni genetiche che si è diffusa più velocemente tra tutte le mutazioni genetiche studiate quindi diciamo è da ribaltare la cosa l'ultima notazione c'è un'altra domanda dottoressa Zappelli veterinario velocissimo dunque chiedevo siccome per esempio io sono una grande consumatrice di frutta e verdura ogni volta però mi chiedo se questo effetto benefico di frutta e verdura può essere diciamo inibito ma addirittura negativo il fatto di consumarla rispetto agli anticrittogamici e a tutti i trattamenti che vengono fatti ok no allora sì questa è una cosa già studiatissima soprattutto in Europa e noi abbiamo una legislazione alimentare molto di fatto tutti gli eventuali residui che uno trova su frutta e verdura sono tali da non i test diciamo i requisiti sono tali per cui anche se noi consumassimo per tutti i giorni della nostra vita una quantità cento volte superiore degli eventuali residui eccetera eccetera non avremmo nessun tipo di rischio tra l'altro appunto i coltivatori insomma qualcuno di voi magari è qui o ha dei genitori o dei parenti sanno benissimo che alcune sostanze non si possono mettere oggi e domani l'evento al mercato c'è un tempo che si chiama tempo di carenza che permette alle sostanze di degradarsi per cui di fatto se uno va a vedere per esempio le analisi dell'EFSA che comunque alcune persone dicono vabbè io per sicurezza voglio comunque ridurli se uno va a vedere le analisi dell'EFSA globali che le fa ogni paio d'anni vede per esempio che addirittura la metà della frutta della verdura convenzionale non sto parlando di biologo convenzionale non ha alcun tipo di residuo misurabile una volta che uno le trova al mercato proprio perché c'è anche un motivo economico banale queste sostanze costano tantissimo costano tantissimo per cui gli agricoltori cercano di usarle il meno possibile in modo posso meno quota lavoro laddove vengono rispettate le norme le indicazioni le leggi abbiamo della normativa anche abbastanza rigida in Europa i regolamenti RIC e CLP abbiamo della normativa anche il piano nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci laddove vengono rispettate le norme i limiti di tolleranza cioè la quantità di residuo o di metaboliti dei fitofarmaci che si trovano ancora negli alimenti sono sempre molto molto basse quindi concordo nel poter dire che i benefici sono senz'altro comunque sempre superiori eventuali ai danni che possono derivare da residui di queste sostanze negli alimenti e mi sento di dire che non è necessario comprare il cibo biologico da questo punto di vista qui sono stati fatti tantissimi studi non è mai stata dimostrata una differenza sulla salute delle persone che mangiano mele biologiche invece che quelle che mangiano mele convenzionali e comunque e anzi appunto è sbagliato come spesso viene fatto dal marketing dipingere la frutta e la verdura convenzionale come se fosse tossica e allora la gente la evita in realtà no non ci sono problemi di questo tipo vorrei aggiungere un'ultima cosa prima il professor ha fatto cenno a eventuali interventi magari tardivi o del tutto assenti da parte di ordini di medici o di ordini internazionali riguardo a certe notizie ci sono state ed è vero sono arrivate in ritardo mi riferisco in particolare a quello che è successo anche grazie alla pubblicazione diciamo poco attenta da parte di una rivista internazionale Lancet per non fare nomi quando è uscito un articolo di un medico inglese che poi tra l'altro è stato radiato all'alba esatto che aveva collegato la vaccinazione contro il morbillo l'aveva collegata all'insorgenza dell'autismo senza considerare che per ovvi motivi di tempo cioè il tempo intendo il momento in cui normalmente si fa diagnosi di autismo in un bambino e il tempo in cui si fa la sommistazione della vaccinazione antimorbillosa questi tempi coincidono quindi è abbastanza naturale che ci sia questa coincidenza la cosa è stata smentita da parte dell'organismo internazionale ci sono stati studi su studi il medico è stato radiato all'ordine il Lancet ha fatto retromarcia ha fatto ammenda del proprio errore diciamo così hanno fatto una pubblicazione poco attenta poco studiata però con tutto rispetto i danni sono stati fatti li stiamo recuperando adesso abbiamo ultrasforato mi scuso nei confronti del relatore successivo mi spiace grazie a tutti grazie a tutti